ma buonasera oggi parliamo di passiamo da quella francesca a un argomento totalmente diverso ma che riguarda la storia dell'arte sicuramente che necron è uscito in edicola sulla collana magnus necron parte 1 volume 16 e raccoglie tre storie di necron ora io devo spiegare che necron ai amanti del fumetto se lo spiego è ovvio che che come esperti di fumetto no io non sono un grande esperto di fumetto sono un amante del fumetto come non è che ho studiato università fumettologia insomma ho letto tanti fumetti e ma certamente li ho anche avvicinati da un punto di vista così nel senso non ho mai pensato che il fumetto fosse una cosa cioè ieri ho parlato di pierla francesca la flagellazione di cristo in polere con montanari abbiamo parlato di cristo e c'è quindi la flagellazione di cristo e oggi oggi parli di necron ma è la stessa cosa perché l'arte l'arte non è che esiste l'arte di serie di serie di nel novecento il fumetto è certamente graficamente fa parte delle esperienze grafiche certamente magnus potremmo fare una lezione di storia dell'arte su magnus tranquillamente come l'artista del novecento e sfido chiunque a dimostrare che magnus non è un artista del novecento perché diceva disegna fomenti ma i fomenti sono disegni signori che non è che sono cose cioè sono cose fatte con marca ma carta matita e meno esattamente come l'opera dei libri di storia l'arte c'è un brisley o brisley questo è un volume scassatissimo the early work of over besley 1872 cioè che far ridere una cosa perché dire il lavoro giovanile di obisley che è nata 1872 morte 1898 quindi a 26 anni si lavora giovanile di obisley lavoro giovanile di mosa si è molto già molto vecchio rispetto al viso era un illustratore di libri illustrava libri la morte di arthur le storie di artur è considerata tutt'oggi uno dei grandi protagonisti potremmo citare sembra essere mi sembra di essere buzzante quando faceva la caricatura dei venditori di quale un grande protagonista del novecento ecco mai lui era un grande protagonista del novecento anche se è morto nell'ottocento infatti illustrava the yellow book del illustratore di libri ma le sue opere tra i quali c'è veduta l'illustrazione della prima edizione da salome di oscar wilde se l'avete prima edizione di oscar wilde tenetevela perché fare qualcosa perché alla fine d'ottocento la grafica c'è ovviamente dalla stampa il discorso che avrebbe ripreso un po a lungo con la stampa di url è un artista eppure fa stampe quasi se si ha fatto anche dei quali ma non è il famosissimo per i suoi quadri per le sue stampe sul legno silografia o sul rame o sul compulito dalla stampa alla grafica del novecento le stazioni libri e siamo arrivati al fumetto ma tutto correlato cioè se io dovessi fare storia dell'arte del novecento ma certo che ci mettono lsgs il camminante comandante marchio perché non ci dovrei mettere la storia del novecento io non sono un progresso nel senso dell'arte e quindi posso dire queste cose tranquillamente e senza paura nel senso me li faccio poi ha visto nell'arte in italia abbiamo avuto roberto lunghi tra la fine seconda vera mondiale è iniziato prima e poi dopo la seconda vera mondiale il professore di storia dell'arte di pasolini tanto per dire e federico zeri lunghi poi ha insegnato molti di voi non sanno chi è roberto lunghi e va bene così nel senso che ma chiunque abbia studiato la storia dell'arte roberto lunghi in italia è considerato la bibbia come berenson che era inglese che visse tutte e due sono vissute a firenze c'è la fondazione lunghi e vilda berenson dove si odiavano ma sono bene ebreo di origini vituane che poi naturalizzata lunghi inglese e che era a firenze perché era un appassionato l'arte del rinascimento ovviamente federico zeri che è stata tra l'olio e berenson scrisse un libro sui franco bolli durante il fascismo l'arte che passa da piara francesca e franco bolli ma lo fece polemicamente perché zeri aveva giustamente questo concetto che nel per capire un periodo storico l'iconografia di un francobollo vale quanto un quadro di un aro da vinci per capire il rinascimento perché le informazioni storiche le puoi trarre se da un quadro che da un francobollo certamente il francobollo non ha la estetica esteticamente la bellezza di un quadro che era francesco però se parte dal punto di vista storico dice a zero il francobollo mi dà l'esternità informazioni sul periodo storico su quello che pensava la gente ciò si chiama storia dell'arte storia l'arte vuol dire l'arte cambia a seconda dei periodi storici i faraoni avevano si conoscono la storia d'egitto non capisco perché questi facevano sempre questi pupazzetti tutti uguali quindi vabbè entriamo una polemia quindi nella storia del novecento e del 2000 ma siamo nel ventunesimo secolo certamente il fumetto ci sta quindi chi studia la grafica italiana del novecento che ne so dovrebbe studiare le signorine grandi firme l'illustrazione dei libri mazzanti che illustrato pinocchio i fumetti perché tutto questo fa parte della storia della grafica del novecento italiano e ci dovete infilare anche gallepini gallero ferro e tutto questo e soprattutto magnus necro l'ho citato ora io mi sono un po dilungato questa per un'azione che può sembrare fuori perché ovviamente se parliamo di necro ne conosci nelle edicole verso natale 1980 e già il fumetto non è considerato granché ma questa era addirittura il peggio del peggio perché venne pubblicato dall'editore barbieri che è questo qui nell'editore perché si parliamo di ponelli parliamo di magnus di max bunker parliamo di chi volete voi ma barbieri tra l'altro pubblicavo un po di tutto era una sorta di nave pirata del fumetto italiano tra gli anni 70 molto più trasgressivo sarei dire di riviste come frigiderio e cannibali che nascevano come trasgressive politicamente ma barbieri pubblicava un pubblicabile cioè pubblicava anche quei pocket così che si trovavano nelle dito nel 70 80 cambi fiumetti e pornografici c'è verità zona vampiro e necro è nato qui quindi proprio la cosa più ignominosa se non fosse stato disegnato da magnus che è stato uno dei più grandi disegnatori italiani del novecento possiamo dirle tranquillamente affermarlo poi a chi non piace il fumetto guardi i disegni ma magnus è stato uno dei grandi che è un po difficile trovare le immagini che ovviamente sarei stracensurato ma 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 se ci riusciamo ecco queste sono alcune delle immagini necron magnus queste ombre che riportano a crimina bianchi e neri queste a capo e arte così come nel medievo c'è un arti minori i manoscritti miniati queste arti poi è nata nell'inferno del fumetto c'è già nel fumetto è una sorta di inferno della lettatura perché uso la parola inferno perché nel settecento facciamo anche nelle biblioteche sia pubbliche che private i regali due tera come le parti c'era un settore anche le biblioteche pubbliche intima nazionale anche un ottocento si chiamava l'inferno ma offerta l'usanza francese ed era uno scaffale chiuso rigorosamente a chiave dove i francesi tenevano i libri di desado quei libri che non si potevano dare a tutti quindi per accedere a quella sezione della biblioteca pubblica ci voleva il bibliotecario che la specificare perché motivi ed era chiamato l'inferno ma offerta qui è proprio la morale cristiana dove la sessualità viene vista in maniera assolutamente peccaminosa tutto ciò che è legato al sesso è peccaminoso che tra l'altro non è entreremo un altro discorso ma ora non c'è quindi questi fumetti guida da barbieri avevano l'inferno l'inferno certamente sono quei tipi di fumetti che andavano bene ma di un pubblico certamente diciamo non coltissimo oggi sono pezzi da collezione tra l'altro ma qui il necron che è stato disegnato a magnus disegnato da magnus ma non scritto da magnus faccio vedere tra l'altro appunto l'ultima fase di la fase finale di magnus si rifà molto obbisli con questo uso dei bianchi e degli scuri se vi faccio vedere una cartone di bisli graficamente magnus e ha molto in comune questo non so se si vede bene in questa fase in cui il fumetto diventa assolutamente innaturalistico che sono dei bisli in cui è tutto affidato alla maestria della linea la linea quattrocentesca botticelliana citare botticelli del magno so già che c'è gente che farà desalti dicevo sulla linea dinamica che da solo nella linea più che altro che da la forma non c'è un non c'è diciamo uno sfondo che tutto è giocato sulla linea e tra l'altro appunto c'è un paragone tra l'obbisli e magnus perché sia obbisli che magnus hanno ovviamente sono dedicati all'illustrazione di opere proibite obbisli pubblicò illustrò in chiave erotica per l'ottocento quindi oggi farvi tra i polli le commedie aristofane che come sapete sono un po scollacciate la storia vera di luciano io qui ho un'edizione purgata inglese questa inglese scassata ma è inglese e quindi ecco questa era la storia vera di luciano questi ovviamente hanno messo i disegni più scandalosi queste sono le donne albero che una sorta di così dire Daphne e Chloe che si uniscono con i marinai della nave quindi diciamo che hanno molto in comune ora in questo numero di non vorrei andare troppo lungo perché non vi posso fare grandi cose per motivi di censura insomma ma in questa opera in quest'opera in quest'opera diciamo magnus raggiunge i vertici della grafica alcuni dei vertici della grafica vi faccio vedere vedete tutto ciò che altro è un mobilito in un bianco in un bianco in un bianco le luci e ombre cioè è un'opera graficamente stupenda ed è stata creata allora la sceneggiatrice all'epoca si firmava sotto questo sinonimo si chiamava credo di Daria Volpe mi sembra Daria Volpe scusate che un altro scrisse anche un romanzo sogni azzurvi passava bellissimo passava da Negron a questi romanzi romantici che in realtà si chiamava a Mirkan Martini è nata a Milano il 7 maggio 1942 è stata giornalista e aveva collaborato con Max Bunker a soggetti su su erga sceneggia scusate sceneggia su soggetti di Max Bunker e i numeri dal 5 al 6 del della serie avventura Cliff pubblica nella letterale quindi c'era un legame con Magnus Max Bunker e quindi l'opera è una presa in giro in chiave erotica ma in chiave cioè si capisce che la trama l'ha scritta in Aria Volpe ma le battute che mette in ma in bocca a Necro che è questo mostro che è una sorta di Frankenstein ma talmente un bambino innocente che ovviamente si ribella alla padrona la storia in chiave grottesca di Frankenstein la storia in chiave grottesca di Frankenstein vi faccio vedere quello vi posso far vedere questo è il Necro che si è creata da padrona la storia di Frankenstein ma le battute che dice ovviamente si capisce che ce l'ha messe Magnus e ce l'ha messe tipo alcuni a un certo punto a un certo punto ad esempio una scena entra Necron questo mostro e il protagonista dice oddio un mostro nudo un mostro non ti faccio mai cazzo se ne ho visto e un altro lo chiama mostro e lui e Necron dice se chiama me mostro te io te stronca che sono delle battute che rimandano ovviamente da un forzo da cerco se riesco a far vedere qualcosa ma è un po' complicato è un po' complicato vedete è un po' fumetto dell'orrore un orrore comico un orrore grottesco comico che ci rimanda qui vediamo scusate bellice delle battute che l'ha fatta e le prove scritte sull'omagna dice questo il marinaio dice un mostro se chiama se tu chiama me mostro te stronca quindi siamo ai confini dell'orrore del grottesco dell'erotico ma siamo veramente in un capolavoro dell'arte dell'arte di tutti i tempi voi potete ovviamente vedere o non vedere cioè comprare o non comprare ma certamente è un capolavoro dell'arte mondiale non è ovviamente i temi il mostro cannibale sono dei abbastanza forti perché oggi in realtà il grottesco l'orrore il mostruoso necro è stato sicuramente uno dei protagonisti del fumetto del novecento degli anni ottanta perché pur la sua mostruosità nella sua cioè è un fumetto che ha creato scandalo ha creato scandalo più di tante altre cose che oggi che si dice che crea il mio scandalo in realtà non crea uno scandalo quindi è qualcosa che vi può sicuramente insomma ma dal punto di vista grafico è uno dei capolavori del novecento non è non è cioè il lavoro che faceva magno su queste tavole per un fumetto apparentemente da quattro soldi lui partiva da la fine del fumetto ci sono i bozzetti partiva dalla carta millimetrata guardate che cosa faceva era un lavoratore fantastico non ci sono non ci sono commenti di questo capolavoro dell'arte del novecento potete amarlo o non amarlo ma ovviamente dall'altra punto il legame di hobby business è abbastanza stretto quindi io trovo queste opere ora io faccio lettere classiche ho fatto lettere classiche quindi alcuni argomenti come chi fa lettere antiche è ovvio che il termine della sessualità li deve affrontare o nel bene o nel male perché la società classica è diversa da quella moderna in cui la sessualità è vista come gli aetenesi portavano in processione si chiamavano le falloforie 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 significa invece portare di statue portavo degli immensi falli di Dioniso perché hanno riti della fertilità quindi se uno studia l'antichità classica se ha dei questi problemi con nel lato sessuale dell'uomo a veneno la faccia faccia alta si dedichi a teologia oppure come è successo e fino all'ottocento anche nei rici classici si è fornita una visione dell'antichità classica completamente distorta a Pompei c'era oggi è visita benissimo in gabinetto segreto insomma dei quelli che per noi sono reperti pornograci che poi i pompeiani mettevano a tutte le parti statue scandalose che vennero rinchiusi in questo sgabuzzino e quindi è ovvio che per me e per la mia formazione è ovvio che se tu studi autori come spetroni e apuleio o non li studi o non studi l'antichità classica oppure devi entrare in un ordine di pensiero diverso in cui la morale cattolica o islamica o ebraica che in fondo è la stessa cosa te la devi mettere un po' da parte perché se tu non ti la metti da parte non capisci autori apuleio non lo puoi leggere, petroio non lo puoi leggere, giovenale non lo puoi leggere catullo non lo puoi leggere tutto puoi leggere solo le orazioni di Cicerone e anche Cicerone ogni tanto gli parte qualche anche Cicerone e allora per questo la letteratura greca e latina è così noiosa nei licei perché tu hai levato tutto nell'ottocento è stato ritagliato tutto quello che era un po' scandaloso e quindi si quindi dico questo perché se studi il mondo classico è ovvio che devi affrontare il mondo dico questo perché appunto parlando di fumetti come il Necron sono fumetti che possono creare scandalo ma creano scandalo cioè il fatto che questa cosa sia tipica del nostro mondo degli anni 60, 70, 80 per cui si sentiva il bisogno di pubblicare in edizioni proibite a questi fumetti che oggi farebbero ridere i polli con quello che si trova su internet ma questo senso di peccato legato alla sfera sessuale è ovvio anche nella motivazione per cui è nata questa cosa qui e Magnus ha demistificato ha trasformato un fumetto erotico da stazione ha trasformato in una cosa grottesca, comica, dissacrante e degna delle commedie Aristofale qualcosa di un capolavoro della comicità perché uno legge queste cose e si mette a ridere il riso e tra l'altro il riso e la sessualità nell'antichità erano molto legati perché il riso le commedie sboccate appunto che si facevano in primavera e maggio servivano come ritraffertività quindi qui Magnus c'è immaginate andare a vedere uno spettacolo erotico e questo poi inizia a raccontare e cominciano a ridere come pazzo, capite che tutto lo scopo primario si dissolve, questo è il Necron di Magnus perché qui tutto con le battute di Necron che dice, arriva il marinario e dice ho un mostro e il Necron che risponde se te mi chiama mostro io te spacca è lo stesso principio di Frankenstein Junior, no? il grottesco si dissolve si sfalda in una sorta di Frau Frau Hoer come si chiama Frau Hoer che appena si pronunciava quindi è la stessa cosa che ha fatto mi sembra Mel Brooks con Frankenstein Junior quindi in realtà ha delle parentelle con Frankenstein Junior, detto questo chiudo, vi consiglio o non vi consiglio Necron, non lo so è un capolavoro dell'arte del novecento fate voi naturalmente se siete pudibondi allora no lasciate perdere detto questo vi lascio e buona serata